Il Signore è presente in mezzo a noi. Il Signore ci raccoglie e ci unisce in un solo corpo. Il vento dello Spirito ci conduce per strade conosciute e per strade sconosciute. Dio nostro ci raccogliamo la tua presenza, vogliamo riconciliarci con te e tra di noi, vogliamo ascoltarti, vogliamo seguirti. Nel nome di Gesù. Amen. Cari amiche e cari amici, bentrovati per questo momento di culto. Vogliamo ascoltare alcuni versetti del Salmo 94 che possono sembrare un po' duri ma anche sicuramente molto attuali. Dio delle vendette, o Signore, Dio delle vendette, mostrati nel tuo fulgore. Ergiti, giudice della terra, rendi ai superbi quello che si meritano. Fino a quando gli empi, o Signore, fino a quando gli empi trionferanno? Fanno discorsi arroganti, tutti i malfattori si vantano. Schiacciano il tuo popolo, o Signore, e opprimono la tua eredità. Uccidono la vedova e lo straniero, ammazzano gli orfani. Dicono, il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non se ne preoccupa. Cercate di capire, uomini stolti, e voi sciocchi quando sarete saggi. Colui che ha fatto l'orecchio forse non ode? Colui che ha formato l'occhio forse non vede? Quando ho detto il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Vi invito a raccogliarci in un momento di preghiera. Signore, a Te portiamo e vogliamo affidare i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni, la rabbia, l'impotenza, le forze e le debolezze, le domande e le certezze, perché Tu le riceva e perché Tu le affronti insieme a noi. Il nostro cuore non è solo felice di affidarsi a Te oggi, ma è anche sconvolto, addolorato. Insieme a quello di tante altre persone è sgomento per quanto avviene nell'est Europa, per le popolazioni colpite, per le ripercussioni planetarie di questo conflitto. Signore, raggiungi con il tuo spirito di pace ogni donna, ogni uomo che invoca il tuo nome e che chiede giustizia, dignità, speranza. E stai con noi, con la tua Chiesa, che ovunque si raccoglie per ascoltarti, capirti e invocarti. Ci mettiamo in ascolto, riconosciamo che non ne siamo completamente capaci, ma sappiamo che questa è la via che Tu stesso ci indichi. La Tua presenza e la Tua parola in mezzo a noi sia come un dono di vita nuova. Nel nome di Gesù. Amen. «Il re dei secoli noi celebrano la vittoria» «O su cantiamo, per tutti insieme glibiliamo, in terra e cielo adoriamo». Lode all'altissimo re del universo creato, sovra di Nati la salvi noi tutti apportato. E nel sostegno, poiché ad ognuno conviene, di camminare col suo aiuto. Lode all'altissimo re della grazia infinita. Tutto è di donarci, forza, benessere e vita. Lode all'altissimo re del universo creato, sovra di Nati la salvi noi tutti apportato. Leggiamo dalla seconda lettera ai Corinzi al capitolo 5, i versetti da 17 a 19. Infatti, Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Potrei proporvi l'esercizio di sottolineare le parole più utilizzate nel testo che abbiamo appena ascoltato. Ma forse non è necessario, perché il ritornello è molto chiaro. Riconciliazione. L'Apostolo Paolo ne parla, nella sua seconda lettera ai Corinzi, ma Paolo non ha una storia senza conflitti. Non si occupa solo di mediare tra gli altri. Anche lui è parte in causa, tra gruppi in conflitto, ha anche dei conflitti interni a se stesso, come quello tra il suo passato di persecutore e il presente di testimone dell'Evangelo. Ciascuno e ciascuna di noi avrà vissuto una situazione conflittuale, e credo concorderemo nel dire che non è una bella situazione, non è un momento semplice. Come ti muovi fai danni, si prova dolore, si prova rabbia, non ci sono ricette sicure. Ognuno si muove con gli strumenti che ha, ma che sembrano non bastare mai. E proprio in questi giorni di guerra, di preoccupazione, ci rendiamo conto delle conseguenze brutali, disumane di un conflitto armato e di tutte le correlazioni che questo ha con quello che sembra il nostro normale stile di vita. Il conflitto prende, tocca le viscere, offusca i pensieri. Il conflitto provoca dolore. Ed è, credo per questo, che noi prendiamo sul serio chi è vittima, chi è offeso nel conflitto. Forse per questo non ci piace affatto che si parli di perdono e di riconciliazione in modo leggero. Ci verrebbe da dire che perdonare una sciocchezza è un discorso, ma perdonare un'offesa grave è un altro. Il termine che il Nuovo Testamento usa per dire riconciliazione, catalagé, è lo stesso che significa anche baratto, scambio. E a pensarci bene, in effetti la dinamica giuridica è proprio quella. Tu che mi hai offeso vieni e una volta che mi hai risarcito, che mi hai dato ciò che mi spetta, quello che la legge dice che è giusto, allora io ti lascio andare. Ma il perdono di cui parla Gesù, quello che invita alla riconciliazione di cui parla Paolo, si pone su un altro piano, prova ad andare alle radici del dolore, prova ad essere liberatorio. Perché se esiste davvero un perdono, è il perdono dell'imperdonabile. Se esiste davvero il perdono, è un gesto unilaterale che non richiede risarcimento, che lascia andare il nemico gratis. Non stiamo parlando del piano legale, del nostro sistema giudiziario, stiamo parlando su un piano più profondo, intimo, spirituale, personale, un piano del benessere. Non perdonare qualcuno o se stessi, non perdonare chi mi ha offeso, significa in fondo tenerlo prigioniero, volerlo lasciare fermo lì davanti a te e non concedergli la possibilità né di risarcirti né di andare via. Non riconciliarsi significa fissare i ruoli per l'eternità, imprigionare il mio offensore e imprigionare anche me stesso. Perché non perdonando chi mi ha offeso, ho la certezza che continuerò ad essere la persona offesa e a mantenere l'altra persona nel ruolo di chi mi ha offeso. E questo fa male. Fa male perché rende schiavi, perché uccide chi è ancora in vita e spesso chi si affaccia alla vita e viene invaso da dinamiche che non sono sue e che non ha scelto. Io ti marchio per sempre. Io mi marchio per sempre. E l'atto che hai compiuto o non hai compiuto diventa te stesso, la tua carta d'identità. Ma persino la carta d'identità ha una data di scadenza. Riconciliazione come un baratto, uno scambio. Ma che tipo di scambio? Come ci si può scambiare qualche cosa tra chi ha offeso e chi è stato offeso? Non si può confondere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Non si può mettere sullo stesso piano vittime e carnefici. E infatti la riconciliazione, come il perdono, non è indulto. Non è amnistia, indulgenza, impunità. Non è neanche perbenismo. Pensiamo a quanti salmi che parlano di vendetta esistono. Proprio come quello con cui abbiamo aperto. Il desiderio di vendetta può dare sollievo, perché è il bisogno della vittima o di chi si sente tale di esprimere il proprio dolore. Anche per questo però Dio, Dio stesso, dice nel Deuteronomio a me la vendetta. Come a dire so che è un terreno delicato, me ne incarico io. Forse è giusto desiderare vendetta per un tempo, ma è importante capire che alla lunga la vendetta non sana la ferita. E nemmeno la morte del nemico o l'ergastolo del condannato sana la ferita. Nemmeno cambiare chiesa per non vedere più quella persona che ti ha maltrattato sana la ferita. Nemmeno trasferirsi, nemmeno radere al suolo una città o respingere un attacco aereo sana la tua ferita per sempre. Il perdono può farlo. La riconciliazione vissuta come un dono, come una possibilità che Dio ci dona per noi stessi, per essere liberati dalla situazione statica, mortifera in cui siamo caduti. Riconciliazione come scambio. Ma scambio di che cosa? Allora del racconto della propria storia. Lo scambio delle sofferenze. Portate i pesi gli uni degli altri, dice sempre Paolo nella lettera ai Galati. Io non posso, non ce la faccio a portare il mio peso, tu non puoi portare il tuo, ma viceversa sì. Il racconto del proprio dolore, mostrare la ferita, non più sul piano dell'accusa, ma sul piano della narrazione presa sul serio. Io ti racconto e tu mi ascolti. Tu mi racconti e io ascolto attentamente. Il muro della separazione è distruttibile. Gesù l'ha distrutto con la propria presenza e all'interno del proprio corpo nella resurrezione, nella vittoria sulla morte. la riconciliazione non è riunione, non è ricomposizione di cocci che sono rotti. Non è un'operazione fatta con l'attac per riparare un vaso frantumato, pezzo dopo pezzo, per poi in realtà vedere sempre l'imprecisione del risultato. La riconciliazione non cerca di ricreare la condizione antica, non è nostalgica, ma guarda avanti. E per guardare avanti bisogna usare bene la memoria, perché uno degli ostacoli maggiori della riconciliazione è la memoria che fissa il passato. Quante volte vediamo il passato che non passa? Una crisi avvenuta anni e anni fa nella mia comunità, nella mia famiglia, nella mia vita, nel mio paese, che è come se fosse successa la scorsa settimana e viene raccontata come se fosse attuale. fratelli e sorelle, a noi, anche a noi, che guardiamo il futuro nello specchietto retrovisore, è chiesto di dare al passato e alla memoria il senso corretto, senza azzerarla e senza esserne schiavi. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E io voglio essere una persona nuova, voglio che tu sia una persona nuova, voglio poterti dire non ti tengo prigioniero, non mi tenere prigioniera, perché abbiamo entrambi bisogno di essere liberati, perché Dio ci ha riconciliati con sé e io voglio fare altrettanto con te. Amen. Insieme il pane spezziamo insieme il vino beviamo insieme le nodi cantiamo a Cristo che uno ci fa insieme insieme il Vangelo ascoltiamo insieme il Padre preghiamo insieme noi testimoniamo l'amor di cui Cristo ci amò non aspettar più è giunto il tempo di stare insieme non aspettar più riconciliati siamo da Cristo noi siamo in Lui e solo in Lui riconciliati uniti in Lui ci raccogliamo in preghiera Dio creatore soffiando in noi la tua stessa vita ci hai fatto dono della vita ci hai posto su questa terra con i suoi minerali e le sue acque i suoi fiori e la sua frutta e tutti gli esseri che vivono di grazia e di bellezza tu ci hai affidato la terra oggi tu ci chiami dove siete che cosa avete fatto ci nascondiamo per la vergogna perché siamo nudi violentiamo la terra la saccheggiamo ci rifiutiamo di condividere le ricchezze della terra cerchiamo di appropriarci di quanto è tuo perdonaci Dio creatore e riconciliaci con la tua creazione Dio d'amore ci hai fatto dono dei popoli delle culture delle etnie e dei colori per amare per curare per condividere le nostre vite oggi tu ci chiedi dov'è tuo fratello dov'è tua sorella ci nascondiamo per la vergogna e per la paura la povertà la fame l'odio e la guerra dominano la terra i rifugiati le oppresse quanti non hanno voce gridano verso di te perdonaci Dio d'amore e riconciliaci con te e con i nostri simili insegnaci o Dio creatore di amore che la terra in tutta la sua totalità appartiene a te come pure il mondo e quanti lo abitano ancora una volta rivolgici il tuo appello affinché custodiamo il dono della vita ti chiediamo questo e tutto ciò che portiamo nel cuore nel nome di Gesù che ci ha insegnato a dirti Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nel cielo dacci oggi il nostro pane quotidiano rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non isporci alla tentazione ma liberaci dal male perché a te appartengono il regno la potenza e la gloria nei secoli dei secoli amin con la sua benedizione Dio ci invia la porta della vita e della riconciliazione è spalancata attraversiamola insieme offritevi parole e racconti gli uni e le altre per vincere le straneità per vincere il sospetto spezzate le catene dell'oppressione per vivere la libertà andate e testimoniate con parole con azioni l'amore che in Cristo Dio ha avuto per voi Amen l'amore Grazie a tutti.